Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto, siamo presso i giardini Virgilio e vogliamo mostrarvi una situazione incancrenita da lunghissimo tempo, settimane, 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 forse anche mesi. Qui c'era un albero, ora non so quale sia stata di preciso la dinamica, fatto sta che l'albero è venuto meno, è stato rimosso ed è rimasto a terra tutta la pavimentazione rotta, divelta. Ora, ripeto, mi domando come mai nonostante il lungo trascorrere del tempo l'amministrazione comunale non si sia degnata di intervenire. Ripeto, stiamo parlando di un'area immersa in un polmone di verde in cui ci sono civili abitazioni distinte e quindi consideriamo anche la pericolosità della situazione perché qui vengono bambini a giocare e si imbattono in questo scempio. Ma non c'è solo l'area che un tempo ospitava l'albero, tuttavia non c'è solo questo. A qualche metro di distanza vedete la grata che praticamente delimita i giardini Virgilio, divelta, sporgente, spigolosa, pericolosissima per chi passa. Chi passa può trovarsi, lo diciamo in maniera molto semplice, un ferro in un occhio. Immaginate anche un bambino che è basso, di bassa statura, di piccola statura e si imbatte in questi ferri sporgenti. All'interno poi della struttura un lampione con praticamente la luce, il faro pendente. Questi sono i giardini Virgilio e l'area circostante. Domanda, l'amministrazione comunale esiste? Sindaco Stefano, Vice Sindaco Lonuccia, Assessore ai lavori pubblici, questa è Taranto. E voi dove state?